salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale la recensione di lui il simulatore o meglio postazione per simulatori di guida della per chi non lo sapesse bevore è un marchio che ha uno store incredibile che vende veramente di tutto con il proprio marchio quindi loro producono o meglio fanno produrre prodotti che poi marchiano con il marchio bevore veramente assurdo quello che possiamo trovare all'interno di questo store tra cui anche un prodotto come questo un simulatore di guida lui è predisposto per volanti logitech quindi qualsiasi tipo g25 g27 g29 g923 però è sicuramente adattabile a qualsiasi tipologia di volante vi lascio qua sotto il link in descrizione se volete dargli un'occhiata perché questo prodotto al momento è a 89 euro è sicuramente un prezzo secondo me davvero interessante per quello che ci viene dato e per la qualità del prodotto quindi direi di non perdere altro tempo guardiamo cosa c'è nella confezione facendo un veloce unboxing e poi iniziamo il montaggio di questa postazione della vevor per volanti logitech iniziamo l'unboxing subito troviamo le due parti che unite formeranno la struttura principale del nostro simulatore di guida dopodiché troviamo un'altra scatola dove all'interno troviamo il piano d'appoggio del volante proprio andrà fissato il nostro volante e tutte le parti che vanno a comporre il supporto del cambio poi troviamo un foglio illustrativo con 23 schemi che ci spiegano tutte le fasi di montaggio ed infine troviamo un sacchetto con tutte le viti e quello che ci serve per il montaggio della nostra postazione di guida ed ecco qua tutti i pezzi che andranno a formare la nostra sim racing della vevor le strutture come abbiamo visto nell'unboxing sono tutte in metallo è un telaio a tubolare con sezione quadrata che gli dà una rigidità veramente impressionante quindi a livello sicuramente di quello che deve essere una rigidità di una struttura sim racing questo sicuramente non viene a mancare allora adesso andremo a fare l'assemblaggio che è davvero molto semplice perché comunque i pezzi vanno aggiuntarsi utilizzando dei pomelli filettati e poche viti e tutto questo ci permetterà di andare ad installare su una sim racing di questo tipo i vari volanti logitech che sia un logitech g 27 g 25 g 29 o g 923 come quello che andrò installare io su questa postazione allora lui nasce appunto predisposto per questo marchio però secondo me si riesce sicuramente andare ad adattargli qualsiasi tipo di volante allora per prima cosa direi di andare a votare il sacchettino quello che contiene tutti gli accessori e le viti di fissaggio quindi votiamo il tutto allora prendiamo il manuale di istruzioni che praticamente sono solo dei disegni degli schemi sono 23 schemi che ci portano sia nella costruzione del sim racing che nel fissaggio del volante della pedaliera e della leva del cambio perché come sapete la logitech ha anche una leva del cambio opzionale ai suoi volanti e questo sim racing se volessimo o se l'abbiamo che magari non ci interessa utilizzarla non siamo obbligati ad andare ad installare la struttura di supporto del cambio però nel caso volessimo abbiamo anche quella possibilità infatti oggi vedremo diciamo tutto il sim racing completo tra volante pedaliera e leva del cambio quello che andremo a fare adesso per prima cosa ovviamente montare la struttura quindi punto 1 è questo quello che vedete adesso tutti i pezzi in terra ben disposti punto 2 prendere questo pezzo punto 3 andare a prendere questo che è il supporto del volante e andare ad inserirlo all'interno della sua sede una volta inserito dovremmo decidere a che altezza andarlo ad inserire perché potremmo metterlo basso così o alto così quindi in base alla necessità e in base soprattutto al tipo di seduta che andremo ad utilizzare io uso di solito una sedia da cucina o la sedia da sala quindi lo terrò praticamente alla massima altezza che può stare questa struttura dal punto di vista della regolazione dell'altezza del volante andiamo ad inserire i suoi pomelli di fissaggio nelle appositi sedi perfetto i primi due pomelli li abbiamo messi adesso il punto 5 ci dice di andare a fissare qua sopra la base che andrà a sostenere il volante che è questa l'andiamo ad inserire anche qua possiamo regolare quello che è l'avanzamento del volante rispetto alla nostra posizione adesso andrò a mettere una regolazione casuale poi mentre lo utilizzerò andrò a regolarlo in maniera più precisa anche in questo caso andremo a mettere i suoi pomelli di fissaggio in questa posizione una volta messi i pomelli dobbiamo decidere se vogliamo utilizzare o meno quello che è il supporto della leva del cambio perché altrimenti questo passaggio che andremo a fare adesso non vi servirà mentre se volete utilizzare la leva del supporto del cambio logitech allora dovrete andare ad assemblare anche le parti che andremo a mettere adesso iniziando da questo che il supporto base che va qua in basso anche questo regolabile ovviamente attraverso il tubolare potremmo andare a regolare a che distanza vogliamo la leva del cambio rispetto ovviamente a dove siamo seduti per quanto riguarda la sporgenza laterale quindi anche qua andremo a mettere i pomelli filettati questo supporto possiamo decidere se metterlo a destra o a sinistra in entrambi i casi abbiamo la possibilità di andare a mettere i pomelli filettati quindi se volessimo mettere il cambio a sinistra possiamo farlo tranquillamente allora una volta fatto questo dobbiamo mettere quello che anche il supporto vero e proprio del cambio quindi quello che è l'asta che porta il cambio all'altezza desiderata e il supporto ragazzi è questo lo andremo ad inserire esattamente in questa posizione e anche qua vedete che abbiamo quello che sono i fori per i pomelli filettati perché anche questo supporto è regolabile in questo modo quindi abbiamo veramente le regolazioni infinite cioè è adattabile praticamente a qualsiasi tipo di altezza qualsiasi tipo di dimensione del corpo qualsiasi abitudine noi abbiamo è impossibile non trovare la posizione ideale andiamo a fissare anche questa struttura con i suoi pomelli filettati perfetto anche questo supporto è fissato adesso dobbiamo mettere l'ultima parte che è quella proprio dove c'è la piastra di fissaggio della leva del cambio quindi andiamo a prendere la parte che di cui abbiamo bisogno che è questo e lo andremo a mettere in questo modo anche qua ovviamente la regolazione è sull'altezza quindi non c'è nessunissimo problema a quello che è la nostra abitudine nel tenere la leva del cambio perché abbiamo molta libertà di regolazione mettiamo anche qua i pomelli filettati perfetto anche qua poi la regolazione di fino sull'altezza su quello che è diciamo la nostra altezza con cui siamo più comodi la faremo poi quando proveremo la postazione quindi anche questo passaggio è fatto adesso ci rimane l'ultimo pezzo da fissare e l'ultimo pezzo da fissare è questo e va fissato esattamente in questa posizione andiamo a prendere queste viti con la testa a brugola gli mettiamo la ranella e andiamo ad inserirla nell'apposito foro dall'altra parte andremo a mettere questo dado con ranella anti svitamento e lo andiamo a stringere stessa cosa per il foro superiore ranella e vite che entra perfettamente nel foro e dall'altra parte andiamo a mettere il suo dado una volta fatto questo non ci resta che andare a stringere quello che sono le viti che abbiamo appena messo utilizzando gli attrezzi in dotazione chiave inglese e brugola per fare questo lavoro vi consiglio di andare a sfilarlo perché sarà molto più semplice andare ad avvitare i dadi che altrimenti è un po' complicato riuscire ad arrivare per stringerli ok una volta stretto lo possiamo andare a reinserire all'interno del supporto e andare a stringere non in maniera eccessiva perché tanto poi sarà da riregolare quando avremo la posizione definitiva di come lo vogliamo dal punto di vista della nostra comodità la struttura adesso è perfettamente montata dobbiamo solo andare a mettere i due tappi in plastica su quello che è questo asse il primo se non riuscite con le mani aiutatevi con un martelletto la struttura adesso è perfettamente montata bisogna solo andare a fissare quello che sono i suoi accessori la pedaliera la leva del cambio è lui il volante logitech in questo caso G923 perché è quello che utilizzo con la mia e-box però come abbiamo detto compatibile con G25, G27, G29 quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo il fissaggio iniziamo con la pedaliera che andrà fissata in questo foro e in questo foro filettato già predisposto in quello che è la pedaliera logitech e andranno fissate le viti in questi due fori sulla nostra sim racing allora per fare il lavoro in maniera più semplice direi di vedere come appoggia e vedete che è perfetta si aggancia in maniera perfetta andiamo ad inclinare la nostra struttura in questo modo facendo piano andiamo a prendere queste che sono le ultime viti rimaste in dotazione adesso non ci resta che fissare la leva del cambio per fare questo dovremmo allora metterci in questa posizione dobbiamo utilizzare quello che sono i suoi morsetti originali cioè questo e questo e andremo a posizionare in questo modo una volta trovata la posizione però dovremmo andare anche a fissarlo con le viti che abbiamo qua sotto per fare questo io vi consiglio di andare a rimuovere la staffa così sarà molto più semplice andare a fare il fissaggio perché avremo la possibilità di vedere bene dove sono posizionati i fori allora andiamo a prendere le viti vediamo che la staffa sia centrata bene in quello che è la struttura della leva del cambio e andiamo a stringere le viti una volta fatto questo non ci resta che andare a stringere quello che sono i fissaggi Logitech perfetto vedete che i punti di fissaggio sono perfetti a quello che è la piastra andiamo a reinserire la nostra staffa in quello che è la struttura e andiamo a stringere leggermente i pomelli poi dopo andremo a fare una regolazione più precisa allora per quanto riguarda il cambio ci siamo adesso non ci resta che andare a fissare il volante ecco qua il volante Logitech G923 nel mio caso a questo punto dobbiamo andare a rimuovere queste che sono le prolunghe che troviamo sul punto di fissaggio Logitech cioè queste che normalmente quando lo acquistiamo sono così che dobbiamo andare a rimuovere facendo solo un po' di forza si sfilano perché sono fatte apposta per essere rimosse e dovremo andare a fissare appunto senza utilizzare queste quindi basterà andare ad inserire il nostro volante in questa posizione a questo punto basterà andare a stringere i supporti Logitech perfetto la struttura l'abbiamo completata come vedete è venuta perfetta perché è talmente semplice tutto combattia in maniera perfetta che è uno spettacolo questa struttura della Vevora come vi ho detto il link è qua sotto in descrizione se volete dargli un'occhiata perché comunque il prezzo è davvero buono parliamo di 90 euro ed è una struttura secondo me davvero ben fatta perché con questi tubolari rimane davvero molto molto rigida allora a questo punto avremmo bisogno di andare a cablare tutti i cavi per rendere ovviamente la postazione anche più pratica e bella da utilizzare ma prima di questo c'è un altro piccolo passaggio da fare che è andare ad applicare queste che sono dei piedini in gomma che andranno appiccicati qua sotto alla struttura nelle varie posizioni di quello che sono appunto tutti i piedini della struttura per dargli ovviamente più stabilità ancora e soprattutto per non far scivolare la nostra postazione sim racing sul pavimento quindi adesso applichiamo questi cabliamo i cavi e proviamo lei la postazione di guida della Vevor per volanti Logitech e non solo andiamo ho cablato tutti i cavi usando le fascette in velcro che troviamo in dotazione ho fissato in questa posizione con due fascette da elettricista l'alimentatore del volante mentre da questa parte ho installato una multipresa con la prolunga che poi va alla corrente perché preferisco collegare l'alimentazione del volante a una multipresa per avere delle prese libere nel caso volessi collegare lo smartphone come display esterno e poterlo alimentare e una volta cablato i cavi il risultato finale è questo quindi a questo punto direi di salire a bordo e testarlo lei è una postazione di guida come avete visto veramente semplice da montare praticamente in pochi minuti la si monta e ci dà anche tante soddisfazioni per quanto riguarda le possibilità di regolazione in base alla nostra necessità allora come abbiamo detto io uso un volante G923 perché utilizzo il Lisbox adesso la proviamo così vedete anche i movimenti che ha perché questo è il massimo movimento che ha dal punto di vista della flessione ma vi assicuro che non vi dà per niente fastidio nell'utilizzo è un movimento che quando giocate praticamente si perde nell'utilizzo quindi è davvero fantastica perché è veramente molto molto rigida poi con il fatto che possiamo mettere il cambio a destra a sinistra e poi non scorre in avanti con il suo peso i suoi gommini che abbiamo sotto la postazione non scivola minimamente adesso per provarla proveremo un gioco dove utilizziamo anche la leva del cambio mettiamo in forza Horizon e facciamo qualche giro così vi accorgete di come si comporta lei nei momenti in cui è più concitato il volante e quindi quello che è la flessione della struttura che secondo me è fantastico questa spostazione di guida la proviamo con la Giulia Quadrifoglio l'ultima arrivata per quanto riguarda o meglio una delle ultime auto arrivate su forza Horizon che secondo me può darci soddisfazione appunto utilizzando la leva del cambio ed eccoci qua pronti con la nostra Giulia Quadrifoglio sentite già il rombo pronti prima innestata e via adesso sto guidando easy non sto impegnando minimamente la struttura perché adesso la sto provando in maniera molto tranquilla giusto perché anche sto parlando dopo magari la proviamo con una macchina da rally o in una guida un po' impegnativa così che possiate vedere quello che sono le sue flessioni i suoi movimenti quando la stiamo usando in maniera molto impegnativa sentite come pompa il motore quadrifoglio della Giulia fantastico adesso proviamo a spingere un attimo sentite il motore della Giulia come viene su e vedete comunque che la postazione non dà movimenti anche con il gioco volante con il feedback attivato e tutto quindi diventa duro spinge eppure la postazione rimane molto molto stabile guardate che roba adesso direi che possiamo provare in una maniera più impegnativa nel senso che magari proviamo in una modalità rally quindi col fuoristrada quindi con tutte le vibrazioni molto più accentuate rispetto all'asfalto non userò il cambio perché comunque con la macchina da rally col cambio mi va massa il cervello però quello ci permetterà di vedere la stabilità della struttura che è una cosa sicuramente importante quando si acquista ovviamente una sim racing di questo tipo allora direi di entrare nella modalità rally ed eccoci qua ho scelto la lancia delta integrale HF perché anche lei è una delle ultime arrivate nel pacchetto italian automotive ed è ovviamente un'icona del mondo rally saliamo a bordo come abbiamo detto adesso la guideremo col cambio automatico perché in modalità rally mi piace guidarla così e via cioè vedete qua adesso sullo sterrato come comunque guardate che roba cioè quella flessione che ha comunque la struttura non si sente minimamente durante l'utilizzo del gioco fantastico guardate che roba sterrato a manetta guardate come la struttura rimane molto molto stabile è una flessione che non dà il minimo fastidio durante l'utilizzo poi magari un super professionista potrebbe sicuramente dire wow no quella vibrazione lì mi crea stress no ragazzi per chi la usa solo puro divertimento non dà proprio il minimo fastidio adesso saliamo qua un po' sulla collina scendiamo derapatona freno a mano e vai ultimo freno a mano e vai spero di essere riuscito a trasmettervi le sensazioni che può dare una struttura portatile come questa poco ingombrante diciamo uno strumento che ci permette di utilizzare il nostro volante e essere in una modalità sim racing davanti al diciamo televisore della nostra sala come sto facendo io come faccio sempre io quando utilizzo una postazione sim racing e devo dire che le sensazioni che ricevo sono davvero fantastiche come vi ho già detto in descrizione ai video trovate il link per l'acquisto con anche un coupon sconto che vi dà un piccolo sconto aggiuntivo che vi fa abbassare ulteriormente il prezzo perché lei di listino costa 89 euro e fate scendere ulteriormente il prezzo che vi permette di arrivare quasi a 80 euro che avete comunque in mano un prodotto davvero ben fatto un solido è quello avendo questi tubolari a sezione quadrata avete davvero molta solidità sia per quanto riguarda la parte del cambio ma anche quello che è proprio la struttura quando guidate è davvero molto molto stabile quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di lei la sim racing postazione di guida della Vavor vi è piaciuto l'avete trovato utile e interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità anteprime spoiler anche di lei erano arrivati degli spoiler sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostener questo canale dove posto tantissimi cupo sconto riguardanti il drone e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test come questo un tutorial o una novità ciao e al prossimo video